Polino e Salento insieme a tavola. L'idea è la realizzazione da parte di Dino Saulle che con i suoi incontri pericolosi presso il ristorante Uppid ha portato a tavola due territori così distanti come il Polino e il Salento. Cinque le preparazioni con tartufo, cinghiale, peperoni, cruschi, porcini e pecorino abbinate ad altrettanti vini da Negroamaro, Primitivo, Malvasia e Minutolo dell'azienda in rosa. Vetrer delle sorelle Anna Maria e Francesca Bruni presenti alla serata. Una bellissima serata qui presso Uppid Ristorarte. Polino e Salento unite qui a tavola. È una provocazione però noi l'abbiamo accolta come cantina Vetrer e credo che il risultato sarà veramente da stupore. C'è qualche sorpresa in sabbo per questa serata? Gli abbinamenti sarà una sorpresa perché ci sono tutti i nostri vini top, ci saranno vini che nascono sul mare, vini con una salinità particolare, con una mineralità particolare abbinati con prodotti della montagna, del Polino che è una cosa splendida e secondo me sarà un abbinamento che veramente ci farà riscoprire tante cose di entrambe le regioni. Come Vetrer invece i buongustai cosa devono attendersi per questo 2016? Il 2016 sarà un'annata, cioè l'annata 2015, quindi che noi metteremo in bottiglia adesso credo che sarà un'annata da ricordare. Sarà sicuramente un sollievo dopo un'annata molto difficile come è stata il 2014, siamo tutti molto più rilassati e felici in quest'anno. Provo che sta diventando patria, lo è già dell'arte e con la cucina ovviamente l'esperienza di Dino è un valore aggiunto. È una cittadina splendida, devo dire che io la conoscevo ma non bene come lo sto conoscendo in questo periodo e devo dire che penso che non ci sia modo migliore per avvicinare la gente, il pubblico, i turisti, gli appassionati al mondo sia del vino che della buona cucina. Raggiante l'organizzatore Dino Saulle che è da 25 anni protagonista nel mondo della ristorazione. Con Dino Saulle una bellissima serata di gastronomia, Pollino e Salento insieme. Sì, è un ulteriore appuntamento di quelli che Uppido organizza, il tema è incontri perigolosi, questo per quest'anno è il terzo appuntamento. Ho voluto scegliere questo abbinamento, il Pollino, quindi prodotti che vengono da mille metri di altezza che incontravano un vino che viene fatto invece quasi vicino al mare, stiamo parlando vicino a Taranto praticamente, quindi vini sapidi, vini corposi, così come alla fine sono anche i prodotti che vengono dal Pollino. Faremo degustare questa sera il cinghiale del Pollino, faremo degustare il tartufo del Pollino, di solito si parla sempre di tartufo di acqualagna, di tartufo di alba, anche in queste zone ci sono veramente espressioni molto profumate di tartufo e poi gli altri prodotti tipici del Pollino, quali i peperoni cruschi, i pecorini per esempio, i fagioli, sono tutti prodotti DOP tra l'altro, il fagiolo bianco di rotonda, la melanzana rossa di rotonda, quindi quello dell'insieme di questi prodotti che incontrano, spero in maniera equilibrata, noi i piatti che abbiamo realizzati li abbiamo realizzati proprio cercando di creare questa armonia, questa sinergia proprio tra un cibo ottenuto da prodotti del Pollino e questi vini che vengono dal Salento, questi vini veramente corposi, non che i nostri non sono buoni ma era giusto perché volevo dei vini proprio che si differenziassero proprio mille metri precisi, vini fatti a livello del mare, prodotti che vengono da mille metri. Pericolosi, cos'altro possiamo aggiungere, quali altre serate sono in programma? Allora, io quando organizzo queste serate, diciamo sono le aziende dei vini che praticamente si propongono, molto probabilmente, anche se non serviamo di solito pesce e quant'altro, c'è un'azienda, vi dico solamente la provenienza, siamo ai confini tra Italia e Slovenia, quindi nei pressi di Trieste più o meno, che mi sta da tempo invitando ad organizzare una degustazione con i loro vini. Quindi sarà la volta buona che per l'unica volta, dopo 25 anni di apertura OOPID, organizziamo proprio un piatto, un incontro pericoloso con piatti di mare e vini bianchi che però sono dei vini bianchi veramente molto particolari, con vini bianchi che vengono macerati, quindi malvasie, quindi la ribolla e quindi il Tokai, che adesso Tokai non si può chiamare più e prende altri nomi. C'è questa cosa in mente, però vorrei aspettare un pochino diciamo la primavera, anche se sembra che l'inverno non vuole arrivare quest'anno. Saruvo che deve farsi contagiare da questo tuo amore per la gastronomia, da questo tuo amore per la città. Io dico a ognuno che esplica la propria professione con amore, con passione, poi è quasi un percorso proprio d'obbligo arrivare a proporsi in questa maniera, con la passione, con l'amore. Io da sempre ho cercato, ormai sono 25 anni, sono qua, da sempre ho cercato di promuovere i nostri prodotti, della nostra terra, però non devi essere chiuso e statico nelle tue esposizioni, nelle tue espressioni, quindi ampliare anche il panorama enogastronomico di tutta Italia e questo è quello che continuiamo a fare e cerchiamo di fare, è la passione.